Ciao amici di Italia Top Games, oggi vi faccio vedere il videogame di Gomorra, avete capito bene il libro di Saviano, il film, la serie, insomma un nuovo approccio a questo fenomeno incredibile che ha conosciuto un successo mondiale, non solo italiano. Il gioco è di una software house italiana, quindi come dire, rimaniamo in casa, il gioco è disponibile per PC, per Android e per iOS a un prezzo davvero basso, 2.99 euro, insomma quindi stiamo parlando davvero di pochissimi spiccioli. Quindi gioco che qui vedremo i primi minuti, un bel po' di minuti e poi a brevissimo troverete anche la recensione sul sito di tariatogames.it domani se vedete il video al day one di quando ho mostrato il video. Allora, lo vediamo assieme, per la prima volta insieme, iniziamo una nuova partita. Metti un famoso illustratore italiano che non ricordo ma è famoso. È una novel interattiva, qualcuno scoppia lo sciampiano e chiesse questa festa, mi guardiamo gli specchi di questo ristorante. Mi chiamo Nina, oggi faccio 18 anni, mi guardo sì e mi accorgo di non sorridere e vedo una stronzetta viziata. Facciamo questo, dai. Incrocio il sguardo di papà nello specchio, mi sorride, mi piace il vestito, sì papà è il vestito, sembro mamma, vero, pace all'anima sua. Sono tutto ciò che gli resta dell'onestà, dice, ma è una bugia. Mio padre è un camorrista, sono l'unico re del clamminiero, metto questo. Fossi masco oggi avrei avuto la mia prima calibro nuove, ma papà non mi ha mai insegnato come si spara, mi ha fatto studiare, mi ha sigillato via per 5 anni, il tuo cervello si merita il meglio, mi aveva detto. Io ho creduto, perché lui è il mio padre, perché l'ho sempre avuto il meglio. Facciamo questo. Perché prima di questi 5 anni la sua voce è stata in me l'unica possibilità, la legge, la realtà predisposta, naturale, a volte è facile credere a tutto quando non si ha mai bisogno di niente, guarda il mio padre nello specchio, non sorride più, non guarda a me. Il primo sparo non riesce a far rumore nella sala in festa, solleva fiacchi di panna, forando la torta. Quando il proiettile arriva contro lo specchio, infrangendo, mi ha ucciso papà, cado senza deciderlo. Le automatiche invadono la sala, mangiandosi tutte le urla, sono sul pavimento, aggredita di tutto e raggiunta da niente. Adesso sento solo il vetro e lo sguardo di papà a terra, che mi fissa ma non vede più nulla. Mi chiamo Nino e resto solo io. Capitolo 1 Prologo La ragazza sotto al tavolo Gli spari il tavolo La fuga Qui ci sono le opzioni Musica effetti Italiano alta Io ho uno schermo 1440p 2k sostanzialmente E per essere un giochino da mobile avere questa risoluzione non è da tutti, ve lo assicuro. Iniziamo La scelta che prendi impattano sulla storia, più o meno gravemente. Pensaci bene prima di decidere. Vi ricordo che è un po' un gioco roguelike Quindi le missioni possono cambiare sempre Quindi rigiocabilità estrema Il pavimento è una palude di sangue, vetri spumanti Gli spari non smettono, una carneficina, grida tutto, anche la musica è continuata ad andare Una mano di donna si infila sotto il tavolo e mi cerca L'afferro La mano si serra sulla mia fila e mi sfila sotto il tavolo Papà è morto, è una delle cameriere, avrà la mia età e pare fatta di solo nervi Papà è morto Mi lascio trascinare le lettere verso i tavoli, tra i corpi, mio padre è morto Buio, non trovo più l'ultimo quarto d'ora della mia memoria Sono affermato in un autobus e non so come ci sono finita Addosso altri vestiti, la cameriere è ancora con me Mi prende la mano, stai tranquilla Nina Mi guardo attorno Il buio si mangia la campagna aperta, le uniche luci lontane sono quelle del ristorante Nessuno ha spento la musica lì, non c'è più nessuno vivo per farlo Se ora fossi in grado di sentire qualcosa, di capire quest'ultimo pensiero, vomiterei Un bus si ferma, si bilando davanti a noi Saliamo Il bus notturno ansima lungo le strade, ripontandoci verso il centro di Napoli Le bordoci siamo solo noi due Mi accorgo che la cameriera non mi sta fissando Non mi riconosce, ah? Sono Tania, abbiamo fatto le elementari assieme La guardo meglio, frastornata Tania la russa, mi ha salvato la vita È Tania, le elementari la chiamavamo la russa Siamo stati tutti talmente crudeli con lei che alla fine Tania la scuola l'ha lasciata Dieci anni dopo è lei che mi ha salvato la vita Vorrei ringraziarla ma il bus frena d'improvviso Mimi Allora, quando prendi una scelta essa ti porterà verso quattro strade Spietata, businesswoman, sanguinario, caritatevole A fine missione verrà informata ai progressi tramite l'assignazione di un titolo Questo influirà sull'andamento della storia e sul finale Mimi ha ancora rivestito la festa addosso Litiga con l'autista al quale ha tagliato la strada col motorino Gli fa vedere la pistola e quello smette Mi vede, ci guardiamo, pensiamo la stessa cosa Mimi almeno tu sei vivo Finalmente piango Mi volto verso Tania, mi butto tra le braccia di Mimi Mi volto verso Tania E' uno degli uomini di mio, è un amico, le dico Vedo soltanto adesso la busta di un regalo Sporge la giacca di Tania Soldi miei Lei se ne accorge Mi ha salvato la vita per sbaglio Tania è la russa Tieni lì tu, è bello Tania sgrana gli occhi Tenendo in mano quella busta gonfia di manconote Sorride Mimi sorride meno Già spazientita Nina, ci dobbiamo muovere Salgo sul metorino stringendomi a lui Sfrecciamone la notte Sei clemente E vabbè dai, mi ha salvato la vita Su L'abbiamo bullizzata da bambina Ok Figlia di papà Finciamo tutto il capitolo 1 Il porto, i fiori, le lacrime nuove Inizio L'aria gelida è salata Il porto mi morde le narici Mi stringono il giacone di Mimi Ma il vestito nel capannone è feroce Ma il vento nel capannone è feroce Scusate Le voci dei guaglioni mi arrivano fuori fuoco Parlano tra loro spaventati come se ne essero mai creduto Che tu potessi morire papà Invece sei morto Io voglio sapere che è stata La voce di Lari mi scuota dei pensieri Io voglio sapere che è stata Sei persone in piedi a fissare l'unica rete di Don Sergio Miniera Adulta da meno di un giorno La verità è che siamo tutti senza padre stamattina La voce di Gennaro mi raggiunge Nina, forse è meglio che te ne vai di Napoli Io non mi muovo da qui Anche la voce di Santo pare una supplica Nina, noi ti abbiamo vista crescere Il silenzio finisce la frase per lui Ciò che resta della mia famiglia Non ha neppure il mio sangue Abbiamo solo le stesse lacrime Prendi il sospiro più grande della mia vita Comando io adesso Chi di voi vuole andarsene se ne va da ora Mi sento dire Finché non ammazzano tutti i minieri Il porto resta sempre roba nostra Di nuovo il ghiaccio salato del vento E il sole a parlare nel grosso capannone Guardo Mimì, sorride Serviranno armi, dice Servirà un miracolo, penso Sei sanguinari Sei sanguinari Settimana 1 Inizia Mimì mi sta sfissando Prende un grosso respiro Come se quello che ha da dire Volesse dirlo in un fiato sole La prima e unica lezione Della sua scuola di camorra Ogni settimana è una guerra Minuccia Tutte le grosse brutte da fare Noi le chiamiamo missione Tre cose ti servono Soldi, guaglioni e rispetto Resta senza una di queste Per due settimane di fila E il gioco è finito I tuoi alleati sono i tuoi bracci I tuoi occhi e la tua bocca In ogni missione Ognuno di loro può fare Alcune cose meglio degli altri Porta il cursore del mouse Su di loro per scoprire maggiori dettagli Ogni settimana porta nuovi casini A volte i tuoi ragazzi Può volerci più di un giorno A sbrigarli Ok Spaccio Comprare droga Più il gioco si fia duro Più bravi devono essere i tuoi uomini Il successo costa sempre risorse Due mani non sempre bastano Per ogni lavoro Ricordato Quando pensi di aver fatto La tua scelta e punti il dito Su qualcuno Tieni quel dito puntato Un po' più a lungo Ti aiuterà a scegliere meglio E' fondamentale scegliere Sempre i più adatti Per ogni faccenda Niente è gratis Neppure le missioni Se tutto fideliscio Vedrai che ne vale sempre la pena Ecco qua Qui mi segnalano questi due No 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 Voglio togliere No 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 Come faccio a tornare indietro? Per ora stiamo a po' Prossima settimana Concludiamo Ora abbiamo cose Abbiamo cose importanti da fare Quindi fa vedere Combattimento Furtività Chi sono i migliori Per fare le varie missioni Questa è un corretore Ok Allora qui serve Oratoria e Lealtà Quindi andiamo un attimo A vedere chi c'ha più Oratoria 1 Lealtà 18 In aria Oratoria 12 Lealtà 7 Raffaella Oratoria 8 Lealtà Oratoria Metteremo Salvatore E E Ilario Salvatore e Ilario Quindi andiamo qui Mettiamo Salvatore E Ilario Apposto Percentone elevato di successo Bene Confermiamo Bene E' andata bene Il valore affettivo Inizio Conoscerti questo gioco Un costo, un guadagno Come conseguenza Tieni sempre d'occhio Le tue risorse Siamo fermi al buio Da mezz'ora La cosa mi fa paura E proprio Non c'è nessuno Da aspettarti Mimì è ironica Ma la frase riesce tesa La villa è buia Fredda Disabitata Non parla neppure più casa mia Parla una carcassa Eppure come dice Mimì Gli sciagalli Non si vedono A casa mia Entro dalla porta D'ingresso Passiamo dal giardino Ma sentite Io passo dal giardino Non si sa mai La siepe si è infittita Ma c'è ancora La fessura nascosta Tra i rami Ci passiamo in mezzo L'albero del rivo È ancora qui Con i rami mai potati Che invadono il balcone Al secondo piano Mentre mi racconto Mi accorgo Che quanto poco Si è passata A mandare solo una bambina Ti devi muovere Nina Dice Mimì Di guardia sul balcone Entro dalla finestra Non entro qui Da troppo tempo Perché sguardo Non vado a letto Che mamma Si è spenta cinque anni fa È per questo Che mi accorgo subito Della persona Stempita in un angolo Vomitata dal buio Sento soltanto Il cane della pistola Che viene tirata indietro Una lacrima Mi corre sul viso Dimmi solo Chi ha ucciso mio padre La figura nell'ombra Ha una voce sottile Incapace di emozione La voce di un boia E che ti cambia Piccidi Tiene l'arma sollevata Verso di me Che non riesca A muovere il muscolo Dimmelo e basta Uno sparo Mi retona vicino Frastornando ogni forma E suono Non cado io Cade la figura nell'ombra Non si alza più Di fianco a me Mimì Tiene ancora sollevata La pistola Respirando forte Neppure mi guarda Prendi quello che devi pigliare E per favore Leviamoci dal Recupero un po' Dell'oro di mamma Siamo fuori Siamo fuori e di nuovo Sul motorino Mi sistemo dietro di Mimì E schizziamo di nuovo Lungo la strada Allontanandoci da lì Lancio un ultimo Sguardo alla mia casa Appare una bocca spalancata E senza denti Mi stringo a Mimì Sono io la mia casa adesso Sei sanguinaria Vabbò E ragazzi Ecco Allora Questa è una cosa urgente Da sbrigare Bene Sappi che Le missioni Che non assegna Alla fine Le paghi Ok Allora Combattimento E qui ci vuole Gennaro Eccolo qui 17 Spaccio Se mandi missioni Che ne hanno fatto Il loro dovere Quindi adesso Non posso mandare Gennaro Vediamo Oratorio e lealtà Andiamo salvato Ok Training L'addestramento a te Non arricchisce Ma migliora i tuoi uomini Ok Allora Addestrare guaglioni Comando E lealtà Indiammi l'aria Ok Quello che dovevi dirti Te l'ho detto Ora tocca a te Ok Conferma Tutto apposta Missioni completate 3 su 3 Ok Ogni bene è materiale Il soldo Il peggio Ciò che mi resta Di mamma Ogni bene è materiale Se più mi fa male La smafia Disgusta L'impiegata Del banco di pegni Sta indossando ora Dietro la vitrine In questo Manovano Incastata a madre dei Pare un urso In una scatola di donno Appoggia la collana Di mamma Sul Sul resto La gioielleria Che sono riuscito A radonare Guarda a me Mimimi 800 stelli Va bene Ragazzi mi fermo qui Avete capito Che gioco è Una novel Una novel Interattiva In cui c'è pure Una parte RPG Per i nostri uomini Insomma Un modo diverso Di interpretare Quello che è proprio Un universo Immaginifico Ormai Di Gomorra Spero Spero che vi sia piaciuto Questo video Ve lo ricordo Questo gioco è disponibile Su PC iOS e Android A 2,99€ Quindi Davvero Non ci noleggiate Quasi Un film Ragazzi Grazie per l'attenzione E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao Ciao